E' arrivato il nuovo straniero dell'Allianz Udas Cerignola, dopo Colleen Amboss e la volta di James Elliot Johnson, nato nel Wisconsin e un'ala e altro 2 metri e 3 centimetri. E' uno dei prodotti che ha avuto un maggior successo nella NCAA, il campionato di basket universitario. Lo scorso anno è abrodato in Italia a Sora in Campania dove ha disputato un ottimo campionato di divisione nazionale. Dunque Elliot insieme a Colleen Amboss formerà la coppia straniera della formazione bianca-azzura che non ha escluso nelle prossime ore ulteriori nuovi acquisti.